Mido, la figlia di Paul Walker, attore della saga di Fast and Furious morto in un incidente stradale il 30 novembre del 2013, ha raggiunto un accordo con Porch, la casa automobilistica produttrice della vettura a bordo della quale Walker perse la vita. Una carrera GT, Mido Walker, 18 anni, aveva intentato una causa contro Porch, sostenendo che il padre non fosse morto sul colpo, ma fosse rimasto intrappolato nella vettura in fiamme e per un difetto alle cinture di sicurezza della carrera GT su cui viaggiava da passeggero. I dettagli sull'accordo e sul risarcimento economico corrisposto dalla casa di Zuffenhausen alla figlia di Paul Walker non sono stati resi noti. Nelle conclusioni dell'avvertenza, in ogni caso, stato accertato che la vettura presentava problemi di stabilità, noti all'azienda, che avrebbero contribuito all'incidente. Walker, 40 anni, viaggiava al fianco di Roger Rodas, 38, su una Porch Carrera GT in quando, di ritorno da un evento benefico, la vettura ha impattato contro un palo e due alberi. Prendendo fuoco dopo lo schianto. Mido, rimasta orfana del padre a soli 15 anni. Aveva G. ricevuto un risarcimento di 10.1 milioni di dollari dalla famiglia Rodas. Altro su MSN. GB. Si filma a tutta velocità al volante di una Porch con i piedi sul cruscotto. Corriere TV